Il Comitato Ambientale ha inviato un esposto alla Procura della Repubblica sulla questione inquinamento atmosferico. L'esposto si riferisce alle tre richieste inviate nei mesi scorsi all'ente relative all'installazione di una centralina fissa per il monitoraggio atmosferico lungo via Mazzini ed in altre zone della città, al fine di monitorare il livello delle polveri sottili. Istanze che Cosimo Panico, legare rappresentante del Comitato, sostiene non siano mai state prese in carico dal Comune. Di qui l'esposto alla Procura affinché si chiariscano gli aspetti della vicenda e si verifichino eventuali omissioni da parte dell'ente.